Dovrebbe dimettersi perché sotto la sua responsabilità sono venuti dei fatti di corruzione gravissimi, sono passate sostanzialmente dal suo ministero delle tangenti che riguardavano le più grandi opere italiane, quindi si parla di TAV e di Expo. È inaccettabile che sotto, tra l'altro, la sua tutela, la sua responsabilità, siano venuti fatti di questo genere. Deve assolutamente dimettersi. Noi, peraltro, abbiamo presentato una mozione di sfiducia e ci aspettiamo che anche il PD la voti.